ciao a tutti eccomi bentrovati sul mio canale eccomi con un nuovo video tutorial gli orecchini primavera li ho chiamati così perché questo modulino è nato per caso da poco e primavera le porte soprattutto i colori che ho utilizzato ricordano molto la primavera e anche l'estate c'è da dire che io amo molto questi colori e quindi niente condivido con voi questo questo modulino spero che sia di vostro gradimento come vedete l'orecchino è molto rigido molto bello ero molto indecisa se mettere la monachella da questo lato e il pendente in basso ero molto indecisa veramente se metterlo per così o così comunque voi potete decidere come meglio vi piace più vi piace fate voi insomma niente questa volta utilizzato dei materiali diversi ho aggiunto i pellet che non ho mai utilizzato e le so di coni insomma 3 mm quelli già utilizzati diverse volte rocaille niente ho bellito poi con questo cipollottino e questo è l'orecchino spero vi piaccia voglio farveli vedere meglio con una luce un po più vediamo un po se riesco a farveli vedere bene c'è questo rivolo rivoli che è veramente stupendo l'ho preso da tinting ma questo colore mi piace da non pazzire veramente veramente bello guardate bene banda le ciance come sempre mi dilungo sempre troppo e passiamo al materiale e al video tutorial ciao ecco che vi faccio l'elenco dei materiali che serviranno per il modulo primavera allora rivoli da 14 mm io già l'ho incastonato a peyote però con le rocaille comunque poi procederemo con il tutorial ho utilizzato due colori di rocaille 1100 però questi sono della miunchi di questo colore e queste qui sia per l'incastonatura e per fare tutti i bordi esterni di questo colore qui questi sono della toho poi utilizzerò soltanto 5 so e questi mi sono stati regalati da cadoro in un ordine questo è il codice in questo verde petrolio blu petrolio e quindi 5 so e ci vorranno 7 super duo io utilizzerò di questo colore qui bellissimo pearl shine light coral veramente bello questo colore mi piace tantissimo poi utilizzerò due light ecco qua pellet light patch silk matte se si pronuncia così comunque questi color pesca bellissimi e poi i biconi da 3 mm presi da tinting questi lo stesso anche rivoli e ho utilizzato anche le miuchi di questo colore dei 15 0 di questo color bello bianco latte sono molto carini sto utilizzando per la prima volta poi il filo il caperland da 16 mm di nylon ago tulip da 11 bene bene passiamo al video tutorial bene partendo d'arrivo l'incastonato come vi dicevo prima con la tecnica del peyote però fatto con delle rocaille 11 0 queste qui in color argento e dopodiché 15 0 ci sono molti tutorial a riguardo quindi non non sto a spiegarvi vari passaggi altrimenti il video durerebbe molto di più quindi una volta fatta l'incastonatura stavo risistemando il filo scusatemi dovrò posizionarmi nelle rocaille qui centrali scusate le unghia fanno pena però vabbè allora mi dovrò inserire qui nelle rocaille davanti però questa posizionata leggermente indietro vedete che c'è questa scalinatura questa un po più sporgente in avanti questa più dietro quindi questa più dietro uscirò con il filo e inserirò un'altra rocaille 11 0 per andarmi ad inserire in quest'altra questo lo dovrò fare per tutto il giro e andremo a creare questo ecco qui in questo modo perché non mette a fuoco oggi in questo modo di nuovo per tutto il giro quindi proseguiamo rimettendo una rocaille 11 0 e facciamolo per tutto il giro una volta terminato il giro ci troveremo ad uscire con il filo da dalla rocaille che abbiamo messo appunto nel giro precedente allora da qui inserirò il bicono da 3 mm e mi inserirò nella rocaille successiva in questo modo di nuovo inserirò un bicono da 3 mm nel lago e mi vado ad inserire nella rocaille successiva allora la sequenza è questa quindi due biconi e una esso quindi andrò inserire una esso in questo modo quindi di nuovo faremo due biconi e una esso biconi esso nell'ultimo giro che poi sarà la parte finale dell'orecchino a dovremo andare ad inserire solo tre biconi ci troveremo quindi a dover inserire cinque esso e nell'ultima parte tre biconi da 3 mm quindi completiamo il giro e ci vediamo a fine giro ecco come ci troveremo il modulino a giro completato come vedete sono cinque esso e poi nella parte bassa che poi faremo diventare la parte bassa sono tre biconi nelle altre parti due adesso ci troveremo ad uscire dalla punta alta di una esso inseriremo due rocaille 11 0 e io li prenderò nel colore argento e ci andremo ad inserire nel bicono che ci troviamo a fianco poi tra un bicono e l'altro andremo ad inserire sempre una rocaille 11 0 però l'utilizzerò di quest'altro colore una volta uscito dal bicono mi andrò ad inserire di nuovo nell'ago due rocaille 11 0 del colore argento e mi inserirò nella punta alta della esso questo dovremo proseguire per tutto il giro fino ad arrivare fino ad arrivare fino ad arrivare all'ultimo giro dove abbiamo i tre biconi e in questo caso non andremo altro che ad inserire tra un bicono e l'altro sempre le 11 0 di quei dell'altro colore di questo colore qui ci troviamo a fine giro questo è giro completato ci troveremo in questo modo vedete che carino anche il modulino così e dovremo trovarci ad uscire dalla rocaille qui di punta dalla esso uscendo da qui dovremo inserire nel lago 3 rocaille 15 0 che io sto utilizzando di questo colore biancolatte e ci andremo ad inserire nella rocaille successiva poi uscirò dalla prima rocaille vedete che sono a coppia in questo modo quindi andrò a formare la punta ops scusate sono fuori in quadratura mi devo spostare un po di qua così in questo modo qui da qui dovremo andare ad inserire 3 rocaille 11 0 del colore chiamato til questo e ci inseriremo quindi uscendo scusatemi ripeto uscendo dalla rocaille qui che sono in coppia quindi oltre passo quindi inserisco queste 3 rocaille 15 0 mi inserisco nella prima rocaille 11 0 che mi trovo successivamente e da qui vado ad inserire nell'ago altre 3 rocaille 11 0 dell'altro colore e mi andrò ad inserire nella rocaille centrale tra i due biconi e formerò questa cosa di nuovo tre rocaille dello stesso colore e mi andrò ad inserire in questa rocaille salterò bicono la prima rocale mi inserisco nella seconda rocaille dove c'è la punta della esso e da qui rifarò la stessa cosa di nuovo 3 rocaille 15 0 quindi questo dovrò fare per tutto il giro e di nuovo riuscirò in questo modo proseguiamo per tutto il giro rinserendo di nuovo altre 3 rocaille 11 0 dello stesso colore e facciamo questo per tutto il giro che vi ho fatto vedere bene scusate nella parte dove sono i 3 biconi invece che 2 non farò altro che ripetere 3 rocaille di nuovo 3 rocaille su ogni bicono dovranno comparire queste 3 rocaille dovranno essere inserite queste 3 rocaille in questo modo vedete per poi completare e questo lo facciamo insieme perché tanto ho finito il giro per poi completare anzi no non ho finito il giro mi manca ancora mi manca ancora quest'altro pezzetto comunque completerò il giro ci vediamo fra un secondo bene terminato il giro in questo modo dovremo uscire con l'ago il filo dalle prime 3 rocaille che sono sopra il bicono vedete uscendo da qui inserirò la super duo e mi andrò a rinserire nelle prossime 3 rocaille successive poi questo lo devo fare per tutto il giro quindi in ogni coppia delle 3 rocaille 11.0 sopra al bicono andrò ad inserire una super duo come ho fatto in questo modo quindi mi troverò ad inserire qui 1 2 3 qui ne inserirò altre 2 4 5 e 6 lo facciamo ci vediamo a fine giro ecco come mi troverò dopo aver inserito le super duo come vedete 4 nella parte superiore superiore sì e 2 nella parte inferiore sotto ai tre biconi vedete questa sarà la parte bassa dell'orecchino bene adesso ci troveremo ad uscire con l'ago e con il filo dalla dalla seconda rocaille 15.0 in color latte bianco trasparente latte come volete voi sopra al esso da qui inseriremo nel lago 5 rocaille 11.0 del colore argento 5 quindi e ci andremo ad inserire nella punta della super duo in questo modo in questo modo di nuovo 5 rocaille 11.0 e ci inseriremo nella centrale 15.0 che si trova sopra la esso in questo modo allora questo lo dovremo fare per tutti il giro fino ad arrivare anche alla parte bassa quindi facciamo tutta la circonferenza fino ad arrivare vicino alle due super due due super duo inferiori qui in basso perché da qui poi dovremo inserire il pellet invece che le rocaille perché le rocaille queste qui le inseriremo nel giro successivo quindi scusate il gioco di parole comunque dovremo arrivare fino a questa super duo da questa super duo inserirò invece che le rocaille tra le due super duo un pellet in questo modo per poi proseguire di nuovo continuando con le 5 rocaille 11.0 ci vediamo a fine giro bene come vi dicevo prima una volta arrivata in prossimità delle super duo che sono molto vicine dovrò inserire un pellet tra le due super duo in questo modo e poi proseguire chiudendo il giro con le rocaille come abbiamo fatto fino a poco fa completato il giro troviamoci ad uscire nel gruppo dopo la super duo delle 5 rocaille 11.0 che abbiamo appena inserito dove vedete questo spazietto tra i due gruppi da 5 delle 11.0 inserite altre due 11.0 per chiudere questo spazietto in questo modo e rinseriamoci poi nelle perline successive fino ad arrivare allo spazietto successivo per riempirlo quindi riempiamo tutti gli spazietti con due rocaille quando arriveremo qui nella super duo in prossimità del pellet vi farò vedere cosa fare ecco mi è arrivata in prossimità della super duo dove al centro c'è il pellet usciamo quindi con il filo qui inseriamo nell'ago 3 rocaille 11.0 del colore argento una del colore teal e di nuovo scappata no scusatemi allora 3 ok 3 1 e di nuovo 3 in argento quindi in totale devono essere 7 rocaille in questa sequenza e oltrepassiamo il pellet per inserirci nella super duo successiva per poi completare il giro di come vi ho detto poco fa quindi completiamo a riempire questi spaziettini bene completato questo passaggio e dovremo uscire con il filo dopo la super duo della prima rocaille dopo la super duo però adiacente alla punta che vedete qui dove c'è il pellet quindi dopo il pellet saltiamo una super duo la seconda e adesso dovremo inserire questa sequenza di rocaille inseriremo quindi vediamo se riusciamo a far mettere a fuoco questa sera che non ho capito non proprio non vuole ok ce la facciamo allora inseriamo quindi 6 rocaille 11.0 in colore argento 3 nel colore teal una super duo 4 in colore teal sempre 11.0 da qui dovremmo rinserirci nel foro nel secondo foro della super duo ecco e di nuovo rinserire nel lago 4 no scusatemi 3 3 rocaille del colore teal e 6 del colore argento 5 e 6 in questo modo per poi inserirci nella rocaille prima della super duo in questo modo stringendo il filo è questo che si andrà a creare adesso da qui senza mettere nulla nell'ago passiamo per tutte le rocaille esterne nel foro della super duo fino ad arrivare qui in punta nella punta color teal quindi ci troveremo ad uscire da questa super duo prima delle rocaille che passano sopra al pellet da qui che facciamo ci andiamo ad inserire nelle prime tre rocaille senza mettere nulla nell'ago saltiamo saltiamo la rocaille centrale in color teal e ci rinseriamo di nuovo in queste tre successive in modo da formare questa punta ci inseriamo nel foro alto della super duo perché adesso vorrei rinforzare il passaggio del pellet si è attrecciato il filo allora quindi usciti dal foro alto della super duo mi inserirò nel foro basso e ripasserò nel pellet in modo tale da bloccare bene il pellet dopodiché mi inserirò di nuovo nel foro basso nel foro basso della super duo successiva ecco scusate ma rigiro il lavoro per praticità ho fatto questa manovrina rinseriamoci nella super duo ovviamente questo è un passaggio che io faccio di rinforzo mi s'intrecciano un po' di fili scusate ma ok e mi vado a riposizionare quindi nella punta della quarta rocaille qui 11.0 mi posizionerò qui per andare a formare il cappietto per poi mettere la goccina o il cipollotto quello che voi volete se volete questo è anche facoltativo quindi faremo questo ulteriore passaggio vola tutto perfetto inseriamoci quindi uscendo dalla quarta rocaille quindi questo dall'altro colore e inseriamo nell'ago quattro quattro rocaille del color teal ci rinseriremo nella stessa rocaille dove stiamo uscendo con il filo ovviamente rinforziamo questo passaggio quindi con il filo faremo due o tre volte per poi riuscire e ricontinuare proseguire senza mettere nulla nell'ago questo giro esterno per rinforzare fino ad arrivare in questa super duo quindi ci vediamo fra un secondo eccoci allora una volta rinforzato anche quest'altro lato andiamoci a posizionare uscendo con il filo da queste rocaille in colore argento quindi nella sesta rocaille da qui inseriamo il pellet nell'ago e ci inseriamo nelle prossime sei rocaille scendendo verso il basso adesso dovremo fare tutto un lavoro di rinforzo in questo modo ora dovremo rinserirci qui per poi ripassare in tutto questo lato niente come tocco il telefono cade ci rinseriamo anche in quest'altra giro il lavoro per comodità in questo modo di nuovo ci rinseriremo per rinforzare la punta dove è la super duo quindi ripassiamo in tutto questo pezzo ci sono gli ultimi passaggi ci rinseriremo di nuovo qui vi faccio vedere senza spiegare vi faccio vedere direttamente forse faccio prima bene da qui dovremo uscire nella quarta rocaille quindi nella prima in color argento che si trova sotto il pellet in questo modo da qui inseriamo 5 rocaille 11.0 in color argento quindi 5 rocaille in color argento per andarci a inserire nella rocaille prima di quella del color in questo modo quindi poi risaliamo su di nuovo le faremo capitare sotto il pellet in questo modo di nuovo ripassiamo in tutto questo giro per riuscire di nuovo da queste due rocaille che abbiamo appena messo poco fa bene mi trovo qui ad uscire con il filo da questa rocaille dopo quella in color teal quindi uscendo dalla prima rocaille in color argento mi vado ad inserire nelle due che abbiamo messo sotto il pellet in questo modo da qui mi vado ad inserire nelle due sopra l'archetto che si si troverà di punta alla e so vi ricordate avevo fatto mettere cinque e cinque e poi due per riempire lo spazietto niente infatti proprio qui dovremmo andarci a inserire quindi inserendoci qua rigiro il lavoro mi andrò a rinserire in questa quindi salto una rocaille quindi salto questa rocaille centrale del gruppo da cinque che abbiamo messo sotto il pellet mi rinserisco nelle due successive in questo modo vado ad unire così ecco qui da qui di nuovo siccome io sia con questo filo e sia tendo sempre a rinforzare molto i miei lavori quindi a ripassare il filo abbondantemente perché preferisco io di nuovo rinforzerò tutto questo giro quindi ripasserò qui di nuovo qui insomma rinforzerò tutto questo giro e rinforzerò di nuovo il cerchio esterno in modo da rendere ben rigido il il modulino come vedete questo non fa una piega è proprio molto rigido stabile e non dovrò fare altro che aggiungere la monachella e il cipollotto oppure la goccina in basso e il modulo è terminato eccoci giunti al termine del video tutorial spero che questo nuovo modulo vi sia piaciuto e niente come sempre vi chiedo di condividere con i vostri amici se vi è piaciuto di mettere pollice in su vi raccomando e iscrivetevi al mio canale se ancora lo fate grazie e al prossimo video tutorial ciao